buongiorno come va come state questo di solito è il nostro solito post della dopo chiacchierata e della solita nostra diretta che andiamo a fare ogni martedì mattina abbiamo parlato di tante cose questa mattina eravate di noi tantissimi in realtà non siamo partiti con un argomento se non quello di raccontare un po che 9 novembre del 1989 appunto cadeva il muro di berlino e in qualche modo insomma qualcuno di voi ha iniziato anche a darmi delle indicazioni su quale brano ascoltare piuttosto che insomma quale film o libro leggere e nel frattempo poi via via abbiamo chiacchierato di tutto e di più vi siete mano a mano inseriti e abbiamo ascoltato anche tantissime canzoni che avete richiesto questa mattina siete stati bravissimi a richiedere canzoni tante molto belle e tante anche che addirittura non conoscevo come insomma quella che c'era anche richiesto gas di questo cantautore astragliano nel frattempo insomma abbiamo ci siamo anche un po raccontati su che cosa si farà nel weekend ma soprattutto quali erano i gradi che c'erano in giro perché insomma peter diceva che lui aveva 27 gradi che fortuna io a malapena forse ne ho 5 ne avevo 5 va bene ci siamo ripromessi o meglio o ovvio promesso che la prossima settimana andremo ad ascoltare qualche vinile quindi farò la ricerca di qualche vinile e farò anche la ricerca sicuramente di qualche diciamo così argomento da trattare mega naturista ne ha tirato uno fuori che però è mega naturista molto bello ma troppo troppo impegnativo e quindi al martedì mattina insomma non sono riuscita a stare tanto con voi a parlarvi perché è arrivato anche insomma ragazzo che collabora come ossigista quindi in qualche modo doveva chiedermi anche delle cose ma so che non avete desistito e siete rimasti comunque come gas mi spiace non ho potuto salutarti da parte di tutti anche perché mi dice ma sei matta cosa stai dicendo va bene nel frattempo il mio sorriso è arrivato spero vi abbia tenuto anche in compagnia che dire beh come sempre grazie e vi invito a venire a trovare su patreon perché ci sarà la diretta nuovamente del venerdì mattina ma ci sono tanti altri contributi che condivido con voi come vi dicevo nei prossimi giorni posterò anche sul canale youtube una chiacchierata che andrò a fare con degli amici che hanno a che fare col camper con i viaggi non vi svelo niente di più perché dovete venire a seguire la nostra chiacchierata nel frattempo vi auguro veramente una buona settimana se volete contattarmi come sempre e mh lib chiocciola libero punto it vi aspetto martedì prossimo per la diretta qui oppure sul canale patron ciao questa volta il bacio e lo mangio così ciao